Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti in questa nuova live e soprattutto bentornati con la Skyblock che oggi arriverà a un punto importante della serie, molto importante, spero almeno, spero che vada tutto bene Buonasera, quindi, gente, buonasera, benvenuti in questa live della domenica Adesso vi metto l'altra cuffia Eh, oggi hype, oggi si rischia molto, devo stare attento, devo essere bello sul pezzo, quindi vediamo come andrà Come state, ragazzi, come va? Bella Eren, la tua ironia non mi sembra così fuori dal mondo Che vuol dire sta cosa che è il Dario? In che senso? Gli sono fatti i capelli blu, hai visto? Si Si nota? Gli ho fatti blu da questa parte e viola da quest'altra No, non è vero, stanno benissimo, ma non li ho fatti blu, non è vero, non ho fatto niente Perché è sta cosa? No, li ho lavati prima e sono ancora un po' umidi Quindi, essendo pesanti, forse sono... sembrano più... Più lisci, però... no, non ho fatto niente, tranquilli Per la storia che hai tolto lo short Ah, ma quello è sul secondo canale, ma è vecchio, sarà di una settimana fa? Sono sempre più lunghi? Beh, crescono, quindi sì Comunque, no, appunto, sembrano un po' più lunghi perché sono... Sono pesanti, forse... Comunque, ripeto, buonasera a tutti Come state? Come va? Mortissimo, non ho dormito Ottimo, Neco Che bello Non dormire, eh? Ne so qualcosa Beh, i capelli crescono Grazie Marte Che dall'alto delle sue due lauree ci fa sapere questa informazione D'altronde lei ha studiato la chimica e la biologia, quindi se non lo sa lei Grazie Simo per i bits Quanto sono belli i custom usciti oggi sulla Cobblemon È vero, ma non ve li ho fatti vedere... Beh, sì, per forza, non ve li ho ancora fatti vedere in live Ve li faccio vedere al volo, dai Aspettate, eh Che tanto... sì Pubblicità del mio server, quindi ci sta Allora, come sapete ora, spero, sappiate Il server dei sub si è aperto Ed è diventato il server della community Possono entrare tutti La parte vanilla è rimasta all'i sub Le altre modalità, anche in futuro, saranno aperte tutti Cioè, teoricamente, non so se ci saranno altre modalità all'i sub Mai dire mai Però quella in programma sarà aperta a tutti E la Cobblemon, soprattutto, è stata aperta E oggi, in realtà ieri sera, però oggi ufficialmente Sono stati aggiunti quattro nuovi Pokémon custom Che sono Questi qui Ovvero Un kingler Formato Mob Del mob vote Quindi è esattamente il granchio del mob vote Però è un kingler Un misto 3-2 Molto figo Questo è Muscle Carp Ed è un Magikarp Che, anziché salire la cascata e diventare Geridos Ha deciso di salire di peso sulla panca piana E, mettendo su muscolatura, ha sviluppato un corpo da palestrato Però è rimasto un Magikarp E poi c'è questo Dugtrio Forma regionale Che è un Dugtrio di neve È tipo una sorta di mega pupazione di neve Infatti c'è il pupazzo di neve stile Minecraft sopra E questo che è praticamente una recolor Però non solo Di Anfaros È appunto una forma nuova di Anfaros Che lo rende elettro-acciaio Lui è ghiaccio Acqua Acqualotta E sono I nuovi Pokémon aggiunti oggi Basta Molto ignoranti come al solito Soprattutto Magikarp Devo dire che Fa un certo effetto Vederlo correre in giro Il granchio è bellissimo Assolutamente Chi ha spezzato il cuore a Magikarp? No, no Lui è andato In palestra per se stesso Voleva sentirsi Più in forma Non l'ha fatto per Una delusione amorosa Comandato San Valentino Tutto a posto Tutto ok Anfaros elettro Si trova in giro È un Pokémon Come un altro Questo qui è una forma Particolare E si trovano Nella città Dello spawn Dall'NPC Dei Pokémon Custom Basta Confermo Sono il coach del Magikarp Grazie Marco Meno male Chi lo ha allenato A dovere Ma parliamo Della Cobblemon Allora Trasformare qualche Pokémon In pal Vi dirò Ci ho già pensato Magari in futuro Perché Questi qui Che avete visto Sono Non sono fatti Direttamente da me A parte Alcuni interventi Che ho fatto io Adesso non sto Ad approfondire E Ho provato a vedere Se qualcuno Avesse creato Dei modelli Di pal Da inserire Ma non ci sono ancora E per farli da me Ci vuole tempo Perché purtroppo È un processo lungo Grazie Andrea Per i 4 mesi Buonasera Non ho ancora attivato Twitch spawn Purtroppo Ora sì Quindi Da questo momento In poi Tutte le sub Che arrivano Mi givano Un oggetto Randomico All'interno del gioco Uno Tra Più di 1200 Tutti gli oggetti Presenti in Minecraft E Detto questo Oggi Dovremmo andare A fare Il drago Ci siamo preparati L'altra volta Non Del tutto E Adesso Finiremo La preparazione Ora vi faccio vedere Un po' A che punto siamo Intanto Sistemiamo L'inventario Così Questi Possiamo lasciare via Non ci stanno Perfetto Vediamo un po' Di zuppetta Però Non è qui Ma No Mi ha ucciso Mi ha ucciso I mob Capra di merda Mi ha ucciso I mob Non ci posso Credere Hanno incornato A morti I mob Non ho più La La Mushroom Ma perché Ma che ti Bastarda di una capra Ma che ti hanno fatto Mi hanno ucciso La mucca E la Mushroom Cazzo Crepa Questo È un Bel problema Facevo affidamento Su quella Quella Maledetta Cosa Quella mucca Intanto Manila Ha regalato Una sub A Dai Corte Grazie Manila Grazie per questa Pressure Di ciliegio Che useremo E cambieremo Finalmente la Pressure qui La mettiamo Di ciliegio Ora Va bene Ecco Vabbè Niente Abbiamo Abbiamo perso Purtroppo La nostra fonte Principale Di cibo Che dire E direi Di dedicarci Allora Un po' Al giardinaggio Per adesso Per fortuna Il cibo L'abbiamo già preparato Per la boss fight Quindi da quel punto di vista Siamo più che a posto Qua come Mizziga Hanno fatto A rompermi Il seme Del melone Boh Vabbè Allora Prendiamoci Zappettina Vabbè Però se faccio così Anch'io Semino E via Poi Meloni Diciamo che il cibo Non ci manca E Manila Grazie per un'altra Sub regalata Annata Lulu Che ci dà Un bellissimo E soprattutto Super utile Girino Che dire Il girino Diventerà Una splendida rana E io lo Spunerei qua Un bel girino Così Nella Pozza No No Che cazzo fai Torni in acqua Ma che è Ma cos'è sta moria Di mob oggi Mio dio Devo prendere il secchio Subito Il secchio Presto il girino Maledizione Ma che cos'è Chi sono sti mob Che continuano a crepare In giro Niente Allora il girino Purtroppo Resterà Nel secchio Che ci faccio Dove lo metto L'ho salvato Per un pelo Sì Mamma mia Allora Concentriamoci Va Perché qui Sto già smattando Dobbiamo andare Nel portale Dell land Attivarlo E andare a sfidare Il drago Nelle ultime due puntate Abbiamo prima Trovato lo stronghold E il portale Dell land Che ora è facilmente Raggiungibile E poi abbiamo preparato Le cose da usare Nel land Tant'è che ora Nel lander chest Ho il kit Pronto Manca solamente Una cosa importante Nel kit Anzi due cose Delle mele dorate Se vogliamo avere Una Difesa extra E poi Un sistema Per ottenere L'uovo In realtà Per ottenere L'uovo La cosa è Abbastanza Semplice Perché Dovrebbe bastare Romperlo Metterci la torcia Sotto E Quindi Sì Faremo Probabilmente Così per Per prendere L'uovo Una volta Si faceva Con i pistoli E tutto Un casino Incredibile Il cammello Che minchia Ci fa qua Vabbè Quindi Abbiamo Poco poco Di oro Ce ne andiamo Ora Nel Nether La spada È qui E farmiamo I piglin Al fine Di ottenere L'oro Per fare Le mele Ragazzi Io Sono contento Vi piacciono I miei capelli Però Non Non sono qua A parlare Dei miei capelli Dai Basta Non Non Faccio niente Non mi sono tinto Gli ho solamente Lavati Non li ho neanche Pettinati E Stop Se vi distrari La mia Bellissima chioma Sarò costretto A togliere La facecam Una volta Per tutte Mi sento Come dire Un po' Og Oggetto Oggettizzato Oggettificato Come si dice Cioè Insomma Sono un gamer Per piacere Non usatemi Come se fosse Un modello Da Da vedere Non ammiratemi Come un'opera d'arte Vorrei essere considerato Per le mie doti Intellettive Grazie Non si sa mai Ah Bassiamo No è già basso Ok Bene Facciamo un po' D'oro Come fate Senza Fesca Non lo so Si può vivere Si può vivere Anche senza Mister Domi Se scrivi un insulto E poi O comunque qualcosa Di offensivo E poi scrivi Non è un insulto Non funziona È come dire Tua mamma Batte in strada Eh Ma non è un insulto È un lavoro Eh no Cioè Capito Non Non tua mamma Dico in In generale Non sto insultando Tua mamma È come se Dici a una persona Questa cosa E poi Eh non è un insulto Eh no Sì che ho un insulto È brutto Senti parlare Qualcuno Ma non lo vedi Beh Non tutti hanno La fesca Io nei video Non la uso Ad esempio Raramente la uso Come sto Io Sto Più o meno Come Come questi piglin Qua oggi Diciamo un po' Stesi Un po' Distrutti Dalla vita Eh anche tu Neco Mi fa piacere Saperlo Vabbè Tutto bene Diciamo che È un periodo Un po' Un po' Stancante Effettivamente Sono un po' Fiacco In questi giorni Ok Siamo un po' Tutti Come i pigmen Ci sta Come mai Gianluca E Gianfranco Fatto Non parlano più Chi cazzo è Gianluca Jinsuke Ma Gianluca È quello di A casa A prima vista È È L'agente Immobiliare Dopo il drag Ho deciso Se stoppi la serie Oppure continui No Allora Facciamo una bella cosa Io Andrei a prendere Qualcosa Per smeltare Giuliano 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 Esatto Lo avevo capito Però era bello Proseguire La gag Di Di dire Gianluca Come Gianluca Se ti fai capelli Rosa come la parrucca Di cara In cosa Nelle live Ok vedo che Parliamo ancora Dei miei capelli Quindi Oggi La live La faremo così Con la scritta Che rimane in mezzo I coglioni Comunque Bello eh Vi piace Non è simmetrica La scritta La sua posizione Quella Comunque No Non uso L'uovo L'uovo Non uso Il secchio di lava Per uccidere I piglin Non è Una cosa Intelligente Da fare Dato che Brucerebbe Il loot E soprattutto Sto usando La spada Con looting Per aumentare Il loot Quindi non posso Permettermi Di ucciderli Con la lava Metti una waifu Vediamo Aspetto Eren Mettiamo Eren Jaeger Ok Mettiamo Eren Jaeger Tipo Ho trovato Una foto Perfetta Aspettate Arrivo Ok Fare sta cosa Adesso in diretta È un po' Un po' Strano Ok Oh Guarda qua La facecam Va che bella Anzi Mettiamo anche L'overlay Di prima Ok Poi Questa La spostiamo Madonna ragazzi Ma che è un'idea Incredibile Io ora in poi farò Le live Solo così Bellissimo Che comodità Anche il formato Giusto Bene Ragazzi Benvenuti Nel futuro Di Twitch Spettacolo Bene Ragazzi Come vedete Io voglio uccidere Tutti i piglin Perché Io in realtà Vedo il passato Il presente Il futuro Ed è già Tutto deciso Quindi io odio i piglin Li devo uccidere tutti Ah Bene Fai che ho una sub La rimetti Va bene Quindi ricattiamo La chat Io Twitch Mi dissocio Però l'hanno proposto loro Rimetterò La facecam Solamente Quando Arriverà Una sub Alla prossima sub Ma Se la sub Contiene Lo Spire Template Non la rimetto Mai più Ma come Neko Ma perché Neko Mi tradisci Proprio tu No Non è giusto Non vale Neko Neko Non vale Non è giusto Grazie Grazie Per la sub Regalata Gabbro Ah si Non chiamiamo ricatto Chiamiamo una proposta Che non si può rifiutare Diciamo così Allora io comunque Ho portato Questo Perché Almeno Smeltiamo Tutta sta Che cazzo succede A ste pepite Pazzite Dicevo Smeltiamo Tutta sta Merdaccia qua Bello questo Grazie Cyberfang Per la sub Regalata Bechelli Ok Beh per adesso Va bene anche così Io direi di finire Sto giro di piglin Comunque Siamo a posto Perché Voglio dire Qua L'oro Non ci manca Ciao io devo andare Buona serata Buonanotte Allora Come si fa ad abbonarsi C'ha un bel tastone Sotto la live Che ti dice Abbonati Oppure se ti hanno mandato Il link in chat Se vuoi Metterei mai la chat A schermo Probabilmente Un giorno si Quando rintegrerò Le live del giovedì Che saranno Altrove Vorrei sperimentare La chat A schermo Quindi Coglierò L'occasione Questa è una skyblock Che non è una vanilla Moddata Bene Stiamo farmando Per il gusto Di uccidere piglin In realtà Oramai Si è perso Il vero significato Ma Lo scopo sarebbe Quello di Fare l'oro Che ci servirà Per le mele dorate Direi che ne abbiamo Sufficienza Vabbè però Aspetta un attimo In realtà In realtà no Così ci faccio 4000 Vabbè 4000 Non è malaccio Facciamo così Vediamo quanti Lingotti Mi mancano Se vogliamo fare La quinta Altri Quattro Lingotti Allora Facciamo un altro Giro E poi ce ne andiamo Per sicurezza Devi mandare una PEC Ad Erin Blaze Con il suo promesso Ti potrai abbonare Mi sembra un po' Eccessivo Perché non arrivano Ok Eccoli Cosa vuol dire Skyblock Con il generatore Di Cobblestone Custom Di Cobblestone Custom In che senso È una skyblock Dove però Ogni sub Che arriva Fa Droppare Un oggetto random E questa è l'unica Differenza Ti permette di avere anche i minerali No Non c'è questa cosa Io direi che probabilmente siamo già a posto Quindi prendiamo questi Prendiamo questi E possiamo tornare E possiamo tornare Sì Mi è venuto un po' così Da Non moderatore Da doppiatore Sì Cazzo ragazzi Andiamo a fare questo Ender Dragon Oggi Per prima cosa Dobbiamo fare delle mele dorate Ci serviranno Per essere più pronti Andiamo a porre Una mela Al centro della nostra Crafting Table E poi circondiamola Di pratici lingotti dorati Li abbiamo farmati Proprio Dai cazzo Di pepitini Di merda Delle cose Non mi viene come si chiamano No Questo non è cibo Questo Via Questo Tac Tac Fatto Non urlare Che cazzo vuoi Francesco Io urlo quanto voglio Non ti permettere mai più Di dirmi di non fare una cosa Doppiatore di D-Max Mi hai spaventata Cotto Come si fa la mela d'oro Incentata Si trova Non si può craftare più Da un sacco di tempo Una volta La craftavi con i blocchi d'oro Pensa Ho iniziato Frieren Frieren Sono già arrivato All'episodio 10 Bravo Molto carino Ci sta Ti hanno mai offerto Di andare in tv Ti hanno mai offerto Di andare Affanculo Eh Allora Come la mettiamo Si mi hanno offerto Di andare in tv Si io sono stato In televisione Effettivamente Sono stato Sono stato Intervistato Dalla Rai Oh Che cazzo Volete voi Io sono stato Intervistato Su Rai 2 Ma non si scherza Un cazzo qua Sono già andato In televisione Easy Intervistato Su cosa Mi hanno detto Ma tu sei Voi cosa fate Youtuber Blah 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 Cioè Queste cose qui Anch'io sono stato Intervistato Poi non hanno mandato Il servizio No no Io sono Sono andato Sono stato Mandato Su Rai 2 E poi 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 L'hanno visto I parenti C'è la mia madre Tutta orgogliosa E' andato In televisione Io dicevo Sì ma Guarda che Cioè Sul web Mi seguo Un bordello Di gente Comunque Non è che Che è questo L'apice Della mia carriera Ah no In televisione Guardate tutti I video Mandate tutti I parenti Mamma mia Allora Ragazzi Torniamo un attimo In noi Ricomponiamoci Che qua Vi vedo un po' agitati Stasera Vi vedo un po' Aggressivi Io direi Che siamo pronti Qui c'è Tutto l'occorrente Per la sfida Con il drago Quindi Ricapitolando Abbiamo un'armatura Dedicata Un piccone In diamante Con un peccone Di riserva L'ascia La palla Ce l'ho già di mio Abbiamo un arco Con infinity L'armatura È tutta Con protection 4 E i feather falling Sui piedini Ho detto Piedini Che ridere La spalla in diamante A sharpness 4 Bucket d'acqua Blocchi la costruzione Bottiglie per raccogliere Il soffio Ender per Per tipparci Ender eye Per aprire Il portale Mele dorate Cibo cotto Con carote d'oro E una shulker Per Dallo stoccaggio extra E Per il resto Io Ora Viaggerò Con le mie cose Quindi con Questo inventario E la mia armatura Ma Arrivati Sul posto Setteremo Lo spawn Con un letto Quindi abbiamo bisogno Del letto Che Non No Possibile Che io Non abbia un letto Molto strano Questo Però Non è un problema Perché basterà Fare Così E Fare Un Una Lannettina Viola Ad esempio Viola twitch Allora Rosso E Brun Sì sì Magari Qualche shulker Li ho Però Non importa Possiamo Possiamo Tranquillamente Farne uno Tanto Ricordatevi Che ora Possiamo anche Acquistarli Lapis Quindi volendo Boom Fatto Questo qui Questo qui Tac E tac Quindi Setteremo Lo spawn Ci portiamo Anche una porta Se proprio vogliamo Fare le cose Fatte bene Io direi Giusto per Una porta Di dark oak E Giusto per Concludere Tutto Facciamo così Mi prendo Questo Qua sopra Ci mettiamo Del ferro Piuttosto E ci facciamo Una bella Torcettina Bene Quindi ora Abbiamo Tutto ciò Che ci può Servire E Una palettina In più Che mi è stata Droppata Da hypnos Grazie per i 35 mesi Che in realtà Possiamo lasciare qua Avrei anche una pala Innederite Ma va bene Questa E Basta Non ci serve Altro direi Avremmo magari Bisogno Della zucca Della Zucca indossabile La jack o lantern Per evitare Lo sguardo Anzi La carved pumpkin Per evitare Lo sguardo Degli enderman Io direi Possiamo farne a meno Anche perché In realtà È molto scomoda E grazie Cyberfang Che regala Un'altra sub A tonic sing Che ci droppa Guarda caso Un letto Ebbene Sì Allora Questo lo lasciamo giù Ci portiamo Il tuo Bene Ragazzi Siamo pronti Si va A sfidare Questo drago Che dite Ci siamo Abbiamo un sorso D'acqua Non userò Nessuna texture Per la zucca Ma sti cazzi Direi anche L'ender chest L'abbiamo già Piazzata Nel Nello Stronghold Quindi Semplicemente Abbiamo già Setappato Tutto Andiamo Se mi arriva Andiamo Mentre Scendiamo Lo mettiamo Nell'ender chest E ce lo teniamo Lì Quello Non è un problema Allora Il me del passato Ha lavorato Molto bene A parte Il fatto Che c'è Il ponte Pericolante Potrei cadere E morire Malamente Questo forse Non è proprio Il top Però A parte Quello Abbiamo Un bel Portalino Che tra poco Comparirà Eccolo Certo che salto Ora vi faccio Anche un 360 Eccoci Questo portalino Ci porta Nell'overworld Esattamente In questa spiaggia E oltre questo Piccolo oceano Troviamo subito Il portale Del land Quindi oltretutto Quando ho fatto Questo portale Ho tenuto Delle misure Che potevano Essere ottimali Per sbucare Vicino Lo stronghold E Diciamo che L'ho pensata Bene Ma C'è anche Andata di culo Perché effettivamente È molto vicino Non ho poi fatto Questa riflessione Ma è davvero Molto vicino Là c'è una freccia Ed è là Che dobbiamo andare Cioè meglio di così Mi sono anche lasciato La freccia Sto solo un attimo Girando a largo Perché c'è quello E c'è l'elder guardian Che rompe Certo Certo si può fare Una texture Per non avere La visuale Della zucca Che rompe Però Diciamo che È un po' Un Contrappasso Del Del Non aggrare Gli enderman Hai meno visione Ci sta È uno scambio Equo Io non metterai Una texture Per togliere Sta cosa Semplicemente Decido di Non usare La zucca Piuttosto Che probabilmente Ci porterà A essere attaccati Da qualche enderman Però Per la prima volta Avremo L'armatura Fatta bene Ed eccoci Arrivati Per andare Nello stronghold Ora Basterà Scendere Da questo Bellissimo Scaffolding C'è Quanto Abbiamo fatto Bene Tutto Quanto C'è I passi Preparativi Sono stati Fatti La perfezione Ora Andiamo Direttamente Davanti Alla zona Del portale Dove Ho preparato Già Una piccola Basettina Diciamo così In realtà Manca un attimo Qualche parete Sì Questa volta GG L'aeron del passato È stato molto bravo Ci è piaciuto Eccoci In realtà Manca solamente La porta Bene E Ecco la mia roba Tutto qui Quindi Adesso Io Mi dovrei Cambiare Però Prima di Tutto Vado ad Attivare Il portale Direi Qua Ho già Tolto I Silverfish E avevo Già Messo Trenderai Che erano Quelli avanzati Dalla ricerca Questo è il portale E adesso Dato che Potremmo Morire In quel caso Risponeremmo Nella nostra Isola Nella Sky Island Metterò Questo letto E setterò Lo spawn Qui Va fatto Un primo Ragionamento Adesso Noi Andremo Nell'end La piattaforma Di spawn Si può Trovare Diciamo Si può Verificare In tre Casi Può Essere Sotto La Endstone Può Essere Alato Dall'isola Però Attaccata O può Sponare Nel Void E in quel caso Devi fare un ponte Per raggiungere L'isola Quindi Se volessimo Essere proprio Super Cauti Dovremmo Eh Se c'è L'isola A me Non lo stiamo Per scoprire Perché in realtà Non lo so Se vogliamo Essere Super Cauti Vado Senza Niente Mi porto Solamente I blocchi In caso Per fare Il ponte Ok E in quel caso Appena fatto il ponte Mi butto giù E rispono qui Se no si fa con le enderpearl Però Avete sollevato un dubbio C'è l'isola del land Teoricamente Teoricamente Si Forse 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 è il caso Di Di seguire la strategia Che stavo dicendo Quindi Moliamo tutto Rinunciamo a 25 livelli Che perdiamo Perché poi Mi butto di sotto E Vediamo Oppure Se vogliamo fare un attimo I fighi Si tanto Li facciamo Il volo I livelli Se vogliamo fare un attimo I fighi Vado Con Arco e frecce Inizio Inizio a tirare giù Un po' Di pilastri Allora Facciamo così Facciamo così Io mi sono fatto tutto il set Non lo uso Ok Non uso il set Sto pensando Sto pensando Cosa Mi può Comunque Servire Il bucket Mi serviva un altro Bucket Almeno Il bucket È abbastanza Fondamentale Facciamo così Proviamo Proviamo prima A farla Con Con L'attrezzatura Schifosa Così Per divertirci Mal che vada Se c'è da perdere Tutto Perché È buggato Land Perdiamo Questa roba Qui E non ci importa Però Teniamoci Almeno La barca E teniamoci Beh Queste qui A portata di mano Sì Questi Mettili qua E cosa Mi tengo Ancora Sì Mi porto Magari Un pochino Di blocchetti In più Va basta Va bene così Proviamola così Facciamo Facciamola Da straccione E allora 3 3 3 2 1 No Neanche il cibo Mi porto Infartino Tattico L'isola c'è Stavo cadendo nel void Inizialmente Quindi c'è stato L'infartino E effettivamente La piattaforma Era Lontana Quindi E' stato Ottimo Essere Previdenti Perché ora Facciamo questo Ponte Andiamo Sotto L'handstone E iniziamo a scavare Qui Se fossi caduto Avremmo almeno Non perso Le cose Importanti Quindi E' stata Una bella scelta Adesso Proviamo a salire Così Dobbiamo comunque Scavare E Detti Rionatsu Grazie dei 28 Mesi Cosa mi hai dato Uno Skull Catalyst Interessante Bene Non so come Ma si è già Incazzato Un Enderman Che palle Sti Enderman Mamma mia Ma che Che gli avrò Mai fatto Poi Non ho mai sentito La musica La musica qui Prima volta E sento La musica Del Land Male 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 Il primo Ok Come cazzo Lo prendo Questo pilastro Non lo prendo Ci devo salire E poi E poi Tipo Ha soffiato Godo L'ho anche preso Dai Era vicinissimo Niente Sta rompendo Le palle Allora Facciamo prima La cosa Del soffio Così ci togliamo Il pensiero Ok Poi In realtà Sapete qual è il problema Il problema È che Qui dove c'è la gabbietta Io probabilmente Morirò Solamente Per l'esplosione Del cristallo Oltre Allo stronzone Che mi butta Di sotto A posto Sì 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 Direi Decisamente Decisamente Pazza Come Come cosa Adesso Facciamolo Con l'attrezzatura Vera Ora Facciamo Land Veramente Allora Teniamo già Il doppio No Il doppio piccone Non serve Facciamo così Questo abbiamo Tanto infinity Cibo Cibo Mi tengo Mi tengo le carotine Mi tengo questo Mi tengo questo qui Questo direi che Non ci serve Questi Questi teniamo da parte E assolutamente E assolutamente Secchio A portata di mano Setup Setup Pronto Andiamo Nell'end Allora Abbiamo scherzato Abbiamo fatto i pirla Abbiamo fatto il try Ripeto Dove Se cadevamo Cadevamo nel void Per qualsiasi ragione Allo spawn Non volevo Perdermi tutto Infatti abbiamo rischiato Per il lag Appena generato Stavo per Cadere di sotto È stato Pericoloso Però Adesso che siamo a posto Sappiamo cosa ci aspetta Ho anche già distrutto Dei pilastri Possiamo andare Possiamo anche recuperare le cose E Finiamo il lavoro Questa volta Però Non si può morire Cioè Qui bisogna Giocarsela Seriamente Che sennò Diventa un problema Bene Così lontano Che non vedo neanche Dove va la freccia Ok Mi sa che Quello Lo lasciamo un attimo lì Saliamo qua Ah Ero qui Prima Quando sono morto Perfetto Possiamo recuperare le cose E occhio che adesso Il dragone Riparte E fa danni Giù Ok Allora Io vado subito All'altra gabbia E poi in realtà Bisogna capire come Come salire nei pillar più alti Probabilmente Sempre con i bucket Per scalare È sempre meglio Usare il bucket Del pilastro Dato che Comunque Genera la pozza D'acqua sotto Quindi se voli giù Almeno hai un Pochino di Di chance in più Che vada tutto bene Se saliremo Proprio qua Il problema È che se ci becca Mentre saliamo Potrebbe darci Una botta tale Da farci volare Fuori dall'isola Quindi Tu puoi andare Nel land Preparato quanto vuoi Ma se ti va di sfiga Ti va di sfiga Cioè esiste Quella Quella possibilità Eccoci Se lo vediamo Che viene Possiamo sempre Allontanarlo Con una frecciata Io non so Dov'è in questo momento Mi metto un po' D'ansia È sotto Eccolo Vedete Mi stava attaccando L'ho cacciato via E io non vedo Dove va la freccia Porta pazienza Minecraft Dove va la freccia Dov'è? Non la vedo Devo passare La sensibilità Del mouse Anche E niente Ci spostiamo lì Tanto qua Li abbiamo tolti Tutti No? Mi sa che è rimasto Proprio solamente Quello Sarebbe Fantastico Però Toglierlo E basta Il rischino C'è stato Vai giù Va Brutta Che tipi Pazzo Vai Siamo a posto Vai Mangiamoci anche una mela Così non ci facciamo manchiare niente Ehm Fammi Questo Dammi questo Che Così in caso Prendiamo il soffio E niente Ci sta attaccando un enderman Dove sta? Tu Perché? Cosa ti ho fatto? Cosa vuoi da me? L'acqua Ok Soffio Preso tutto il soffio Che si poteva Tanto non lo userò mai Probabilmente Quindi È solo simbolico Dai Ma che odio Non so dove Dove vuole andare Il bastardo Sto cercando di Predictarlo Ma Basta Girarti È l'ultimo Fastidio Ok Facciamo così Per sicurezza Ehi Buongiorno No Le enderman Che rompe le palle Niente Dai Volevo dargli qualche spadata Ma Il nostro amico qui Ha voluto rompere le palle Ehi Volevo dargli qualche spadata Beh mi sembra che comunque ce l'abbiamo abbastanza Cioè ormai Serve un Un caso incredibile per morire Tipo appunto Venire lanciati nella stratosfera Failare l'ender per O venire buttati direttamente nel vuoto Non riesco a prenderlo Appunto What? Ecco qui potevo morirci Che cazzo è successo? Ha laggato l'ender per L'avete visto? L'ender per l'è caduta Dopo che mi sono waterbaccato Mi sono salvato il waterbacquet Io l'ho lanciata l'ender per Ma non è terrata Che angoscia Ma perché poi? Forse l'ho lanciata troppo in alto Non lo so La caduta ha superato la velocità della perla Ah beh il diavolo Gli archi si possono riparare senza mending? Sì basta che mette un altro arco Nell'anvil E si fa Aia Ora che si giri da un momento all'altro Eccolo Comunque devo dire che questa È la boss fight perfetta per la skyblock Perché alla fine siamo nel void Siamo su un'isola Circondata dal nulla Quindi di fatto È skyblock Ci sta Come lo uccidiamo sto drago? Piccone di pietra Mi piace Piccone di pietra No pugni l'ho già fatto mille volte Diciamo che ogni serie Cerchiamo di dargli il colpo finale In maniera meme Eh se no Se no Boh Ma si va bene il piccone Dai Piccone di pietra Colle il metto È tipo Come se avessimo appena fatto un incidente Io scendo dallo scooter incazzato Li tiro il casco in testa Eh però Aspettalo Aspettalo va Eh 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 Che lui non ci sta molto Con questa morte Non gli è piaciuta l'idea Ha cercato di farmi il clutch Purtroppo per te Ero pronto a tutto Mi dispiace Però bel tentativo Ci siamo ragazzi L'Ender Dragon È stato sconfitto Nella Skyblock Ce l'abbiamo fatta E ora Togliamo questo Facciamo così Uovo preso Possiamo tornare indietro Lì c'è Land Gateway Che Madonna Guardate Che bassa qualità Che ha il cielo Dicevo C'è Land Gateway Però Non ci andremo Credo Non c'è motivo In realtà Di andarci E lì proprio Diventerebbe Proprio Qualcosa Che non è La Skyblock Eh mi sa Niente Litra Non è mai uscita L'Elytra Per ora Ehm Il fatto che Sì siamo andati Nell'Overworld Per cercare Lo Stronghold E nel Nether Per aprire Lo Stronghold E cercare Lo Stronghold Però andare lì Non avrebbe senso Cioè sarebbe proprio Qualcosa che Non è più La Skyblock Noi dovevamo Raggiungere La Skyblock Finale L'Isola Nel Void E ce l'abbiamo Fatta Quindi ora Possiamo tornare Qui abbiamo I nostri Titoli di coda Sapete I titoli di coda Nascondono Una lore Di Minecraft Segreta E che Durano Tantissimo In realtà Vedete Vedo il player Di cui parlavi Era in Blaze Esattamente E poi eccetera eccetera Può leggere I nostri pensieri Diciamo che ci sono Due narratori Che parlano E sono consapevoli Del fatto che Noi possiamo Leggerli Ma è troppo lungo Leggere tutto Quindi niente Quindi Siamo nello Strongle di nuovo Purtroppo Quindi adesso Dobbiamo rompere Sicuramente questo Riportiamo Giù La musica Prendiamo Questa qui L'ender chest L'ender chest Tanto romperla Non serve a niente La molliamo qua E ce ne andiamo Prossimo obiettivo Creare una tua statua Che è la testa Del drago Sotto il piede Nel land Madonna Passare per land Sto pensando Dove mi porterebbe Beh Tecnicamente Dovrebbe portarmi All'isola Sì Beh si può fare Vabbè Avevo già in mente Di farmi il viaggio Di ritorno Per Per così Ci sta Però vabbè Va bene Stiamo land Mi piaceva L'idea Del viaggio Di ritorno Ecco E' vero Si cadono Nel vuoto Poi No Allora Aspetta un attimo Aspetta un attimo Non mi fido Io Ah guarda A me in realtà Non serve a nulla Tutta sta roba Posso fare tranquillamente Così Anche l'armatura Non è che mi servisse Però vabbè Mollo tutto Nell'ender chest Tanto ce l'ho in base E basta Scusate Scusami la domanda Ma mi sapresti spiegare La smagnetizzazione Adiabatica Sì Nessun problema Allora La smagnetizzazione E' quando Praticamente Tu sei lì E ti puzza il culo Basta Meglio stare Meglio stare safe Ma si dai Non rischiamo Non abbiamo mai Rischiato Tanto vale Non farlo Neanche ora Eccoci Era questo Lo spawn A posto Il soffio del drago Serve per fare Delle pozioni Che non usa nessuno Però volendo Siamo tornati Signori Siamo tornati Allora Posiziono un attimo Questo E ci teniamo Le armi Le cosette Base Ma lascia Ad esempio Dove è finita Dove è finita Lascia Quella brutta Di ferro Che avevo Va bene Le facciamo Ah Eccole qui Questa roba La teniamo qua Per ora Che sta Bene al sicuro Questo Questo va bene Questo pure Questo le teniamo Questo giù Questi qui Bene Fondamentali Per le frecce Ah Per Per le frecce Bevute L'uovo Lo dobbiamo Posizionare Adesso Dobbiamo pensare Ai trofei Ragazzi Però prima Di tutto Una bella sistemata All'inventario Direi che non guasta Quindi Leviamo Sta roba L'endstone Che ho raccolto Nell'end Non La teniamo Stavo Per sbaglio Tenendola Ma Non la teniamo Quello che Potevamo Prendere Dall'end Era L'uovo E se vogliamo Ho anche droppato Vabbè Un paio di ender Ne buttiamo un po' L'uovo E vabbè Il soffio del drago Che per collezionismo Abbiamo preso Ma Possiamo fare a meno Tutto il resto È roba mia Quindi possiamo Tenerla E quindi Le frecce Dove Dove Sono finite Le ho consumate tutte Cioè vuoi dirmi Che lui Ha sparato Tutte le frecce Glowing Anziché La freccia normale E quindi Non le ho più Grazie Molto gentile Ti ringrazio No Non le ho perse Morendo Le ho sparate Praticamente Non ho usato Infinity Ha dato priorità Le glowing E quelle Non Non funzionano Con Infinity Quindi le abbiamo Sprecate tutte Però Tranquilli Perché guardate qui E per qui Intendo Qui Non c'è un cazzo Eccole Eccole qui Ce li ho Ce li ho A posto Tutto salvo Tutto a posto Questi vanno qui Buttaci dentro Queste qua Piccone Di pietra Lo teniamo Questo Buttalo qua Enderpearl Vanno qui Poi Questo Va qui No Non va qui Ma va qui Questo Va qui Enderai Non lo so Buttali qua E Matteo Grazie per le 5 Sub Mamma mia Matteo Immaginati se ora Ho il diamante Che meme Sarebbe Allora Non c'è il diamante Ma comunque Un po' Memato Mi sento Perché Mi hai Dato Un piccone In nederite Che non ho mai avuto Per tutta la serie E in questa serie Abbiamo scavato Davvero tantissima pietra Dal generatore Avrebbe fatto Molto comodo Quindi si Un po' il gioco Ci ha trollato Grazie comunque Matteo per i 5 Sub E salutiamo I'm Ricto Davide Ede Aaron Crest E Lul 51 Benvenuti Bentornati Nel caso È andata così Va bene Noi lo scettiamo Questo ovviamente Lo mettiamo Da parte Questi vanno qui Il pollino va qua Cioè il coniglio In realtà E l'uovo del drago Dove lo metto? Anche Manila Ha voglia di trollare Apparentemente Regalando 5 sub A joke MG joke Asso twitch Ella sector Nightcore king E defava 006 Io ho paurissima Ecco Eccolo lì Allora Il primo blocco Sicuramente è infestato No Per una volta no Netherstar Un'altra Così Così Per festeggiare Del purpur Una shared E un libro Che useremo per scrivere Le mie memorie Che dire Questa ce l'avevamo già Grazie per le 5 sub Ovviamente Abbiamo quindi Due netherstar Adesso Voglio scrivere Una poesia Al diamante Al diamante Che manca Oh Mio diamante Il cuore Mi hai Spezzato Abbandonando Abbandonando Il tuo amante La tavola Non abbiamo Creato Craftato Ecco Ovvio diamante Il cuore mi è spezzato Abbandonando il tuo amante La tavola Non abbiamo Craftato Te Costudisci la mia poesia E Il suo amante Era Lui L'altro diamante Che è rimasto Spaiato Se avessimo avuto L'altro diamante Avremmo fatto la tavola Per l'enciante Questo è il significato Era lopardi No Perché Non voglio Starne ingobbito Sui libri Mentre Guardo dalla finestra C'è Silvia E dico Oh Silvia Ti dedico la poesia Intanto C'è il giardiniere Che se la Se la limona Durissimo E lui Leopardi Tutto lì Dietro alla tendina Che Probabilmente Qualche raspone Se l'ha anche tirato Il buon Leonardo Il Leopardi Leopardi Non so perché È così Diciamoci la verità Dobbiamo guardare Il lato più Volgare Delle cose No Leopardi Amava Silvia Ma lui Era chiuso in stanza E la guardava Dalla finestra Silvia ha fatto La sua vita Lui Probabilmente Gli ha fatto Solamente le dediche Mentre altri La rendevano felice Questa è la verità Su Leopardi Un poeta Che ci trasmette Una storia Di Vigliaccheria Non si è mai lanciato Nel Non ha mai provato Ma in realtà Che cazzo ne so io Cioè Ha scritto due Due poesie Che abbiamo studiato Tutti a scuola Non è che sappiamo Tutta la sua vita Magari ci aveva pure provato Effettivamente Molti dicono Che Silvia Non sia mai esistita E questo sarebbe Ancora più triste Chi lo sa Allora Ci serve Una zona Trofei Ricordando che abbiamo Anche questo Ma grazie Cyberfang Che regala Una sabba Tanostri Ed Imax Che fai 18 mesi Buonasera Oh Mappa E beh Tinted Glass Non saprei come usarlo Lasciamo Qui La mappa è top Invece La mappa La voglio creare Creiamo Da qui Che bello Che fico Ragazzi Questa mappa Sapete Che vi dico Potrebbe Potrebbe diventare Un cimelio Il void è grigio Si Potrebbe diventare Un cimelio E tipo La mettiamo Nel server Dei sub Come Premium Non lo so Come qualcosa La metto Nello shop Mi invento qualcosa Come ricordo Perenne Grazie Grazie per la Per la mappa Mi è piaciuta Sta cosa La mettiamo La mettiamo Nelle chat In table Particolare E tipo il disco D'orio Del voyager Mi piace Come idea Allora Trofeo Sto Sto pensando Quasi Quasi Di utilizzare Quest'area Qui Guardate Nella Nella Nell'ender chest Non saprei Però Cioè Lì Non sono mai Sponati Gli animali Quindi Tanto vale Dargli un Utilizzo No E I trofei Che andrei a mettere Sarebbero Questo Questo Il common block Un end portal Assolutamente Questo minecart Quindi Nada E Appunto L'uovo del drago Oppure Potrei fare Potrei fare Che li mettiamo Simbolicamente Sopra la casa Se fossero Trapassati Se fossero trapassati Se il raggio del beacon Li trapassasse Il knowledge book Il knowledge book Magari lo aggiungiamo In un item frame Non saprei Allora Facciamo così Allora Mi serve Mi servono Gli scaffolding Che Possibile io Non ho Scaffolding Avanzati Avanzati Facciamo Poi prendiamo Del vetro Arancione Ci sta Ho un maiale Che non ho Spunato E' vero Il maialino Ho anche Quest'altro Minecart Doppio Signor maialino Venga Ma quindi abbiamo Due maiali Questo cambia Tutto Cioè Mi stai dicendo Che Ora possono fare I porcelli E potremmo Potenzialmente Avere una farm Di maiali E noi Non lo sapevamo Abbiamo una farm Di maiale Dopo l'endgame Sì L'abbiamo iniziato Dopo l'endgame E' vero Ok Ora guardate Cosa facciamo Le mucche Sono morte Ragazzi Purtroppo Sono morte Prendo tutta Sta roba E facciamo E facciamo così Posso piazzarli Innanzitutto Mi sa che Non posso neanche Piazzarlo Il common block Questo nemmeno Land L'end si L'end si E' solamente In creativa Sbatta Niente Qua se no Li piazziamo Allora Tra mi Mancherebbe Un blocco Mettiamo Il petrify Dock Slab Dai Potrei mettere Un blocco Infestato Se no Però Ma che Finisco il portale Ma quando mai Figurati Allora E' venuto Più strano Del previsto Perché non ha I blocchi Che dicevo io Però diciamo Che è un particolare Cristallo Trapassato Dal beacon Che voleva Ricordare Il portale Del land Cioè Land gateway Quello che ti porta Nelle isole fuori E' una sorta Di creazione Di bedrock Trapassata Da Un portale Del beacon Volevo fare una cosa Simile Però non ci sono I blocchi Che dicevo io Fa niente Però simbolicamente Mi piaceva l'idea Dato che Abbiamo sconfitto Land per avere Il drago Commesso in cima E Detto questo Concludiamo Con Possiamo Metterci Il command block Con L'item frame Però Ma la bedrock Non l'abbiamo mai Ottenuta Effettivamente Sarebbe stata Interessante Bene Non lo saprà mai Nessuno Che c'è Però C'è anche Un command block Il blocco D'aria Esiste Lo puoi piazzare Con i comandi Ma Non lo puoi avere Come item Ovviamente No La bedrock Purtroppo Non è mai Stata ottenuta Ma ragazzi Questo Trofeino Rappresenta Le conquiste Pazze Che abbiamo fatto In questa serie E forse Richiede Un piccolo update Della mappa Non che si è cambiato Un granché Ma Che blocchi Che colori hanno Sti blocchi Colori molto strani E detto questo E' il momento Di salire Al portale C'è un piglin E' vero E dai Su Che ho poche frecce Vai Sì E' arrivato Il momento Di buttarci Un Un Iron Golem Intanto Sta morendo Il suo Sguardo Mentre muore Mi fa sentire Colpevole La sua morte Inutile Neanche sono più Tornato a prendere Il ferro Chissà quanto Ferro c'è Lì dentro Sembra Sembra Quasi una base Spaziale Vista da qui Signori E' stato E' stato un bel Percorso Abbiamo Completato L'obiettivo Primario Di questo Skyblock Che era La conquista Dell'end E adesso Vi chiederete Non lo so Vi dico Sinceramente Non lo so La serie è finita La serie continua Devo decidere Non ho deciso Ancora Devo decidere Cercherò di farlo Molto in fretta Dato che In caso Continuasse Continuerebbe Già settimana Prossima In caso Finisse Dovrei sostituirla Quindi Prenderò Una decisione Ma Per questa Sera Chiudiamo La live Che potrebbe Essere L'ultima Questa sera E' stata Molto divertente E' stato Molto bello Riesplorare Questo Anzi Esplorare Per la prima volta Questo caposaldo Della community Di minecraft A cui non avevo Mai giocato Avevo visto Solamente contenuti Ma non avevo Mai giocato Direttamente E Abbiamo fatto La skyblock Nel 2024 Ma è stata Una bella sorpresa E' stata Molto divertente E pensare Che all'inizio L'ho fatta Quasi Così A random Invece Ci è piaciuta Così tanto E Beh Questa musica Triste Cioè Richiede un discorso Extra Qua Diciamo che Questa serie Mi ha Rifatto Apprezzare Delle Piccolezze Del gioco Delle Piccole Meccaniche Che ormai Non usavo Più E il piacere Un po' Di guadagnarsi Le cose Che Si ha Quando Fai la prima Survival Alla fine Poi Diventi esperto Inizi Ad avere Mondi più Completi Quindi Perdi un po' Il gusto Di fare Certe cose Invece qui La conquista Della terra La conquista Del ferro Cioè Tante traiardate Tanti piccoli pezzi Per arrivare poi All'end Cioè Pensate Quante Cose Abbiamo dovuto Fare Per ottenere Quei villager Gli zombie La strega L'oro Nel nether La farm La farm Del ferro E Sembra Tante cose Scontate Ma qui Hanno avuto Tutto Un altro Sapore È stato Molto Gustoso Detto questo Ragazzi Però È tempo Di buttarci Concludiamola Come una skyblock Vuole Con un salto Nella piscina Non nel vuoto Ci siamo meritati La sopravvivenza Direi Per questa live È tutto Vi farò sapere Cosa ne faremo Di questa serie Se Continua Dovrà continuare Con Con un bel Obiettivo Direi Con un obiettivo Chiaramente Tu chi Cazzo Sei Com'è possibile Che ci siano Zombie Sei sponato Lì sopra Mi sa È l'unica Facciamo una cosa Anzi No No Non fanno luce Questi E allora Torcino Ragazzi Se qualcuno Se qualcuno di voi Ha da mandare Una risub Potrebbe essere L'ultima occasione Per farmi avere Quel fottuto diamante O quelle fottute litra Io Ve lo devo dire Perché Potrebbe Potrebbe succedere Che sia nel finale Farebbe abbastanza Da ridere Attenzione Eh Bicuta Addirittura Ne regala Cinque Così Il mega tentativo Ma grazie Bicuta Cinque Sub Soprannome Bovino Francesco Chi è Quest'altro Ma da dove Vengono Perché vengo Attaccato Dagli scheletri Dalle cose Com'è possibile Che ci siano i mob Non ho capito Allora Stavo dicendo Bicuta Ha regalato La sabba Soprannome Bovino Francesco Stevi E Magna Grazie mille Bicuta Cyberfang L'ha regalata A sabbi Grazie cyber E anche Manila Regala una sabba A vampi O vompti Grazie Manila Grazie a tutti Ora scopriremo Se abbiamo ottenuto qualcosa Mi sto chiedendo Come sia successo Che Mi ero dimenticato Ecco perché Qui dovevano Sponare Dovevamo mettere I villici Avevo lasciato Il blocco Nel buio Ok Tutto chiaro Dormiamo Ultima notte Risettiamo Lo spawn Che non avevo settato Più Sarebbe stato ancora Senza spawn Il personaggio E scopriamo E scopriamo Non ci credo Lo spire Finale È successo Uno schiaffo In faccia Potentissimo Come dire Diamante Wandering Trader L'uovo di Wandering Trader Ma che è E Manila Ci riprova Ancora Grazie per Quest'altra Sabba Il faro Ametista Acqua Red sandstone Rame Wandering Trader Minecraft con chest Shared E Dulcis in fundo Cartello di spruzzo Ma non Arboscello di spruzzo Ovviamente Manila Grazie ancora Per la sub A Scroto in scatola Che bel nome E Fence di Ciliegio Non si può fare Non è fattibile A questo punto Siamo stati così Tanto interrotti Dai mob Che Guarda Questi hanno iniziato A produrre Adesso che è finita Non ci credo Esatto Dai Facciamo 1200 sub Che arriva il diamante Io sono d'accordo Se volete Siamo qua Il trailer Non scambia diamante Purtroppo Allora Torniamo a noi Dicevo La serie Se continuerà Dovrà continuare Con uno scopo Ben preciso in mente Non voglio fare Le live Tanto per O fare Progetti Particolari Su un mondo Che poi Un giorno Comunque Molleremo Se devo Impegnare Tanto tempo Su qualcosa Che deve Perdurare È la survival Ok Quindi Sì Il weeder Boss Si potrebbe pensare Il weeder Boss Ma Ti dico Come andrebbe Dobbiamo farmare Nel nether Fuori dalla skyblock E poi il weeder Boss Non lo affronterei Mai nella vita Qui Probabilmente Lo affronterei Cioè sarebbe Davvero Fuori di testa Farlo qua Sarebbe la fine Lo affronterei Nel portale Dell land Scammandolo E ho già Le nether star Peraltro Sì Ho già il beacon Quindi Non serve neanche E quindi Sì Ci penso Vi farò sapere Intanto Salutiamo La skyblock Grazie a tutti Per il supporto E ragazzi Adesso Cambiamo Argomento Andiamo su Palworld E Se volete restare La live continua Se no ci vediamo Domani alle 20.30 Con la survival Quindi Un saluto Alla skyblock